Ciao a tutti ragazzi io sono Zabro e siamo intornati su un nuovo video e siamo su minecraft ragazzi non me l'aspettavo mai e siamo qua ho fatto una cosa per voi vi faccio dare solo uno spoiler e siamo pronti e iniziamo e spero che vi piaccia questo video durerà poco volevo farlo per voi grazie mille speriamo che cresciamo insieme ce la facciamo c'è scritto il mio nome Te Bro grazie a tutti voi ce l'abbiamo fatta iscrivetevi chiedo solo questo per favore iscrivetevi spero che vi iscrivete sono così contento oggi ho fatto un po' tantissimi video e questa roba è tutta per voi continuo ad andare ancora avanti vi dico ancora iscrivetevi se volete vedere l'arte di pezzi che andrò avanti e al prossimo bella si becca